salve a tutti popolo di sport e benvenuti in questo secondo video di questa rubrica che non ha un nome dove principalmente parlo perché mi è stato chiesto fuori dal web già spiegato nel video precedente degli integratori che utilizzo io e oggi parleremo di un integratore che è molto dibattuto su sui vari profili pagine e quant'altro che sono gli aminoacidi i bcaa che sarebbero aminoacidi a catena ramificati vi ricordo che io non sono un nutrizionista sono semplicemente una persona che ha studiato come in scienze motori come kinesiologo con la specialistica in scienze dello sport codice lm 68 se volete andare a vedere ma non sono non posso essere a parlarvi degli integratori nello specifico dovete parlare con un qualcuno che ne capisca perché perché la legge dice così ragazzi ad ogni modo vi sto parlando di integratori adesso sono tutti dietro di voi ma piano piano riprenderemo in esame di uno ad uno di quelli che io utilizzo è il motivo perché io utilizzo quelli oggi parleremo appunto di questo argomento che sono i bcaa qua vedete sempre della yamamoto comunque che trovate su yaps noi non siamo affidati per questo video non ci pagano sono neanche monetizzati video ancora ma trovate gli 811 alcuni dicono 811 no alcuni dicono sì alcuni dicono ma io dico che gli 811 per me no perché dopo i 411 già i contenuti comunque di leucina c'è tanto male che ti prendi la leucina pura e buonanotte perché sono importanti gli amminoacidi perché di base leucina e solucina e balina sono la prima che le prime tre i primi tre amminoacidi di molte proteine di conseguenze con un vabbè chiamiamo legame con diversi legami riescono a sintetizzare altri tipi di proteine per questo sono importantissimi io consiglio di prenderli anche se adesso questi qua sono finiti questi qua sono a compresse mi trovo molto più comodo a compresse l'ho provato per un paio di volte in polvere fanno schifo all'arancia e queste qua sono compresse le devo uscire buonanotte io le prendo la mattina e prima e dopo l'allenamento io faccio un tipo di attività fisica che è sia in campo con il football americano fondamentalmente sia in palestra faccio un tipo di sport faccio un tipo di attività che è tra il powerlifting fondamentalmente è il bodybuilding quindi rimani sporco appannato come un powerlifter ma comunque i volumi cercano facciamo crescere cerchiamo di farli crescere come nel bodybuilding questo mi porta ad avere praticamente fra i cinque sicuri e gli otto allenamenti a settimana per questo degli un sul plus comunque di un supplemento energetico che siano aminoacidi e proteine ma poi parleremo anche di altri mi aiuta praticamente a uno a prevenire il catabolismo in primis due anche a sostenermi un po perché voi sapete che la leucina funge anche come stimolare naturale anche se in minima minima quantità per l'insulina di conseguenza porta tende a far portare anche gli gli zuccheri carboidrati all'interno del muscolo e quindi a riempire il muscolo di zuccheri detto così brevemente ci sono dei processi biochimici che andrebbero approfonditi ma non è questa la sede bene ragazzi io spero che questo video anche questo video vi sia piaciuto qua dice praticamente i dosi consigliati sono cinque compresse io non sono rettamente d'accordo con questo tipo di consiglio perché appunto il peso 106 kg e 5 compresse con 8 allenamenti a settimana non li sento neanche ok mi hanno suonato il campanello ragazzi nel frattempo ne approfitto e vi saluto vi ricordiamo che se avete dei dubbi per prestità o qualsiasi altro problema contattateci sulle pagine facebook e instagram dove sono superattivi e iscrivetevi al canale lasciate un bel like e un commento ci vediamo al prossimo video bella ragazzi e buona allenamento da InSport ciao